Salve, bentornati a questo nostro incontro sui racconti del Talmud. Come ho già accennato, il mondo del Talmud è sostanzialmente un mondo maschile, dei maestri che studiano nel Bad Midrash e discutono tra di loro. Sono veramente poche le donne che compaiono nel Talmud, donne delle quali è ricordato il nome, le vicende familiari, le vicende della vita. Beruria è una di queste. Beruria vive intorno al secondo secolo dell'era volgare e è una donna molto colta, figlia e moglie di rabbini. Le sue vicende vengono narrate in vari trattati del Talmud, in particolare nel trattato di Berakot, nella pagina 10a, ma anche nel trattato di Abod al-Zarah e anche in Pesachim. Ma chi era Beruria? Beruria era figlia di un maestro molto importante, Hanania ben Teradion, uno dei dieci martiri, cioè uno di quei dieci maestri che rifiutarono di seguire la legislazione romana e quindi continuarono a insegnare Torah e per questo furono catturati, imprigionati e uccisi in mezzo a orribili torture, così come rabbia chi va. Anche la madre di Beruria fu condannata a morte e un fratello ugualmente fu ucciso da dei malfattori e una sorella fu catturata e ridotta in schiavitù in un postribolo. Beruria era una donna, come ho detto, eccezionale. Praticamente di lei si sa che frequentava il Berk Midrash, perché a un dato momento si legge che in un solo giorno imparò 300 alakot dai maestri. era anche dotata di spirito ironico e una volta che incontrò un maestro che si chiamava Iosea Galilei, questo maestro gli disse qual è la strada più breve per andare a Lodda e Beruria gli rispose in maniera ironica e a presa di giro e gli disse sciocco Galileo ma non sai che non bisogna intrattenere a lungo parole e discussioni con le donne, avresti potuto dire semplicemente quale per Lodda. Quindi era anche consapevole del proprio ruolo di donna in un mondo sostanzialmente maschile, ma anche consapevole della propria cultura e della propria elevatezza morale. Di lei si raccontano anche altre vicende, una in particolare è riportata in un Midrash, in un Midrash dei Lim e narra di un episodio abbastanza tragico, molto tragico, che accadde quando in un giorno solo morirono i due figli di Beruria e di Rabi Meir. Cosa accadde? Rabi Meir tornò dal Midrash e chiese a Beruria dove sono i miei figli? E lei gli rispose sono andate al Midrash e lui disse ma sono stato al Midrash ma non li ho visti. E trascorse tutto lo Shabbat e Beruria non volendo turbare l'atmosfera dello Shabbat si trattenne dal dire a Rabi Meir cosa era accaduto e avvolse in un lenzuolo i corpi di due figli e si apprestò a servire il pranzo a Rabi Meir e tutto questo durante tutto lo Shabbat finché alla fine dello Shabbat Rabi Meir non pronunciò l'Avdalah e a quel punto Beruria gli pose una domanda e gli disse sai è venuto un uomo e mi ha chiesto di restituirgli un pegno che mi aveva lasciato tempo fa. Cosa devo fare? Devo renderlo questo pegno oppure no? E Rabi Meir gli rispose certamente quando viene dato un pegno a una persona se poi viene richiesto bisogna restituirlo. A quel punto Beruria condusse Rabi Meir nella stanza superiore sollevò il lenzuolo e lui vide i due figli morti e quindi si mise a piangere e disse arrivederci figli miei figli miei maestri miei maestri figli miei nelle vie del mondo ma miei maestri perché avete illuminato i miei occhi con la vostra comprensione della Torah. Quindi Beruria anche in questo caso si dimostrò una donna all'altezza della sua statura di donna coraggiosa forte e al di sopra veramente del normale. Come ho detto prima una sorella di Beruria fu condotta in schiavitù, focatturata e messa in un bordello e a questo punto intervenne in suo aiuto Rabi Meir perché Beruria gli disse non posso sopportare che mia sorella viva in una condizione così degradante. Ora dobbiamo ricordare chi era Rabi Meir. Rabi Meir è stato un tanna della terza generazione, un grande maestro, uno dei più grandi maestri del Talmud. Fra tutte le citazioni, almeno un terzo delle citazioni del Talmud sono riferite a nome di Rabi Meir. Rabi Meir che è stato allievo di Rabi Akiva e a sua volta maestro di tantissime generazioni di altri maestri, a suo nome sono attribuiti tutti i detti che non hanno la dicitura di un nome di rabbino. Cioè tutte le volte che viene citato un detto, se non c'è un nome di un rabbino a cui è attribuito, si sa che questo è attribuito a Rabi Meir. Rabi Meir era un grande maestro, era un grande insegnante e visse sia in Eretz Israel che in Babilonia a seconda delle condizioni politiche del tempo. quando avvenne questo episodio della sorella di Beruria, che cosa fece Rabi Meir? Raccolse una grossa somma di denaro, di monete d'oro e si recò al bordello e disse anche tra sé, se questa ragazza non si è ancora conceduta, non ha ancora compiuto atti proibiti, avverrà per lei un miracolo, se no non avverrà nessun miracolo. Si travestì da stagliere e si recò al postribolo e lì chiese di questa ragazza e una volta che lei gli si presentò, lui le chiese di darle i suoi favori e la ragazza rispose dicendo ma non posso, ho la regola delle donne e poi qui ci sono tante altre ragazze più belle di me. Allora Rabi Meir capì che questa ragazza rispondeva così a tutti gli eventuali clienti e decise di cercare di riscattarla, di salvarla. Allora si rivolse al guardiano del postribolo e gli disse di dargli la ragazza. Il guardiano gli rispose dicendo che non avrebbe mai potuto farlo perché sarebbe stato sicuramente condannato per questa azione. Allora Rabi Meir gli offrì questa grossa somma di denaro, tre cav di monete d'oro e gli disse tieni per te metà di questa somma e l'altra metà la userai per corrompere i guardiani. Il guardiano del postribolo gli disse sì posso provare a farlo ma come farò quando i soldi saranno finiti non potrò più corrompere le guardie. E allora Rabi Meir gli disse beh quando succederà questo se per caso loro ti cattureranno e ti condanneranno tu dovrai dire una frase particolare dovrai dire signore di Meir salvami tu sarai salvato. Allora il guardiano disse ma come faccio ad essere sicuro di questo? Stai a vedere disse Rabi Meir. Lì vicino c'erano dei cani che azzannavano le persone. Rabi Meir gli gettò un sasso e i cani si lanciarono su questo sasso e a quel punto lì e stavano per aggredire Rabi Meir e Rabi Meir disse signore di Meir salvami e i cani si accucciarono tranquilli. Allora il guardiano fu convinto e lasciò libera la sorella di Beruria ma a questo punto naturalmente lui dovette cercare di corrompere le autorità che si erano rese conto che lui aveva lasciato andare questa ragazza e così fece finché però i soldi non finirono e a quel punto lì lo arrestarono e lo condannarono a morte. Quando stava per essere condannata a morte il guardiano disse signore di Meir salvami e le guardie lo lasciarono andare. A questo punto però le guardie e anzi tutto il governo venne a sapere di quello che era successo e decisero di incidere le sembianze di Rabi Meir sulle porte di Roma e misero un decreto che diceva chiunque vedrà quest'uomo lo dovrà denunciare e lo cattureremo. A quel punto Rabi Meir fu inseguito qualcuno lo riconobbe e si rifugiò dentro un postribolo e c'è chi dice che c'era lì un cibo cucinato dai gentili. Rabi Meir intinse un dito in quel cibo e poi ne leccò un altro e le guardie dissero beh se fosse stato Rabi Meir certamente non si sarebbe comportato così non avrebbe toccato un cibo impuro evidentemente delle guardie che conoscevano le regole dell'alimentazione ebraica e le limitazioni della Kacherut. A questo punto il testo del Talmud dice che Rabi Meir fuggì a Babilonia e dice anche che fuggì e in un altro brano si dice a causa dell'incidente di Beruria. E qui il Talmud finisce il suo racconto e non sappiamo cos'è questo incidente di Beruria. Sappiamo soltanto che deve essere stato un evento talmente stravolgente, talmente terribile che ha costretto anche Rabi Meir a fuggire, a fuggire lontano. In Asia Minore c'è chi dice o Babilonia non sappiamo. Dobbiamo aspettare, dovremo aspettare che venga Rashì novecento anni dopo che in una versione parallela di un Midrash racconta qual è l'episodio che ha portato Rabi Meir a fuggire e Beruria a togliersi la vita. Ma noi ci atteniamo al testo del Talmud e quindi non raccontiamo questo episodio. Chi vuole se lo potrà andare chiaramente a cercare. Rimaniamo comunque con l'impressione di una figura femminile veramente eccezionale, una delle poche come ho detto che compaiono con il proprio nome nei testi del Talmud e con rimpianto per la fine tragica e per la vita tragica e difficile che questa donna ha dovuto condurre in un mondo essenzialmente maschile che ancora non si poteva permettere di dare troppo spazio a una donna colta e preparata. Grazie per avermi ascoltato, alla prossima!